Ci nervosiamo, dopo la fiducia si perde e loro prendono fiducia, niente, complimenti a Berlino che ha giocato molto bene. Anche gli Stewart ora ci riprendono che dobbiamo spostarci. È successo anche nell'ultimo punto, un fischio un po' strano che si è sentito, non si è sentito, la squadra si è fermata. No, perché doveva entrare un giocatore, noi eravamo fermi, la panchina si è alzata e poi quello fischiato aveva tutto. Come ho detto prima, possiamo cercare le alibi, ma ormai i tre punti sono andati, loro hanno giocato meglio, complimenti, è ancora lunga. So che adesso è molto difficile, partiamo in salita, ma noi siamo una grande squadra, sono sicuro che ci rifaremo.